Solo lo scorso mese di giugno il danneggiamento della sua autovettura, una Fiat e Punto, posteggiata sotto casa al viale della Vittoria de Grigento. Adesso una lettera di minaccia accompagnata da un proiettile è stata fatta recapitare al presidente della provincia regionale Eugenio Dorsi. Dopo il nuovo atto intimidatorio, il prefetto Francesca Ferrandino e il questore Girona Modifazio hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza per Dorsi. Il presidente della provincia da circa un anno e mezzo vive sotto scorta assegnategli dall'allora prefetto Umberto Postiglione. La tutela fino all'altro ieri era garantita dagli agenti della polizia provinciale che lo accompagnavano ovunque e viaggiavano con lui a bordo dell'auto blu. Ma dopo l'arrivo dell'ennesima intimidazione già da ieri mattina al fianco degli agenti della provinciale si sono giunti due uomini della polizia di Stato. A fine aprile al presidente Dorsi erano arrivate anche una serie di telefonate anonime. Anche in quel caso minacce erano state rivolte al capo della provincia grigentina. è soltanto in questo momento